Sono a San Pietro di Rosà, alla Ex Orlandi, dove è nata la caratterizzazione del suolo della palla acquifera per un grave problema di inquinamento da solventi. Questo è un problema diffusissimo in molti siti del Veneto, ma questo in particolare ha creato molta preoccupazione anche nei cittadini proprio perché ha interessato la contaminazione della palla acquifera. Adesso siamo nella fase di caratterizzazione e poi naturalmente dovrà seguire la bonifica. Sono al municipio di Rosà, dopo il sopralluogo alla Ex Orlandi. E' ora veramente di trovare una soluzione nei confronti di questi troppi siti inquinati. Il problema della contaminazione delle palla acquifera è gravissimo e dobbiamo porre fine a questo scempio. Abbiamo un territorio ricco di acqua dolce, ma sempre più povero di acqua potabile. Bisogna intervenire presto per garantire il diritto ai cittadini di avere un'acqua salvere e potabile.